Welcome to our final evening of this edition of the International Academy of Music. Iniziamo subito con la musica, avremo tempo per scambiare due parole dopo il concerto. We'll start right away with the music, we will have some speeches at the end of the concert and also the award ceremony. Vi pregheremo di spegnere i cellulari, please switch your cell phones off, buon concerto, enjoy the concert. Applaus 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 Grazie a tutti. 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 Grazie.